Ok, mentre ero qui che giravo sulla pagina di Lez mi sono trovato una cosa epica, stupenda proprio, udio. Allora, questo utente ci ha inviato questo bellissimo video che è sul canale ufficiale di Zabo89, quello vecchio, come potete vedere è lui, video. È il canale di Zeb, nessuno ha giocato, avviamo un po'. Non credo che si debba andare avanti. Qui c'è il bellissimo Zeb che sta citando con un cheat per la vita, ha anche detto che l'ha creato lui, l'ha anche ammesso, pubblicato in data 17 marzo 2007, stesso periodo in cui ha confessato di citare sul gioco Gamehack, Gamezone, che cavolo che era, che vi metto qua sotto in descrizione. E mi ricordo che in una live, quando gli avevo chiesto, o in una live oppure in privato, non ne sono sicuro, quando gli avevo chiesto spiegazioni su questa questione qua, che aveva ammesso di citare, mi aveva risposto. Lo staff di quel sito, mi aveva fregato l'account, mi aveva fatto quel post al posto mio. Aha, lo staff del sito ha fatto quel post al posto tuo, e poi sul tuo canale ufficiale, quello vecchio, c'è un video in cui utilizzi un hack che dici di aver creato. FACLOGIC